L'emozione da un punto di vista mio è tanta, però mano a mano che passano le ore diventa sempre di più un'emozione che non porta tensione ma felicità. Non è un'emozione tossica, è un'emozione fantastica di essere in un posto meraviglioso a giocarsi una partita bellissima. Silvino è stato molto bravo a creare questa squadra, ha dato degli equilibri ben precisi, sono riconoscibili. Giochiamo contro calciatori che conoscono benissimo il nostro calcio e che hanno qualità. Aslani, Ramadami, Bairami, Ginsiti, sono tutta gente che sa giocare a calcio benissimo, conosce il nostro calcio, ce l'hanno fatto vedere nel nostro campionato. Per cui sarà una partita tosta. Io sono convinto che la nostra squadra riuscirà a far capire quello che è ciò che vuol fare, quello che è il calcio che vuole fare. Questo non è detto poi che ti assicuri di fare risultato pieno ma ti dà poi la sensazione di far parte di un assieme che non riguarda solo gli 11 calciatori in campo ma che riguarda anche i 60 milioni che saranno lì a giocarla la partita insieme a noi perché noi non chiediamo di tifare per noi e i nostri tifosi ma chiediamo di essere proprio sul rettangolo di gioco al nostro fianco.